Florio, sgarbi, sgarbi, adesso che sei sgarbi o non sei sgarbi? Così mi regolo. No, no, mi sono molto felice dell'equilibrio del professor Bruno, volevo suggerirvi di parlare anche con quelli con cui ho parlato, io non ho mai detto nulla senza aver parlato nell'ordine di questi tempi con Rigoli che oggi ha preso il posto di Risarmi, con la Gimondo che vende da te, te lo ricordi bene, con, ecco, quindi io non mi sono mai esposto su posizioni che fossero un mio capriccio, sono passato per persona che voleva contrapporsi ma io sono favorevole a tutte le prudenze e a tutte le cure possibili, tenendo conto però che ci sono dei diritti violati e la frase di Zingaretti, me l'ha riproverato Storace, non so se sia fascista o comunista, ma è una frase autoritaria, sulla parola fascista volevo dire quello, forse ero sbagliato, comunque di qualcuno che ti impone qualcosa oltre il rispetto dei i tuoi diritti, cioè dobbiamo escludere socialmente. Ti sei ventito di aver detto fascista, Vittorio, puoi chiedere scusa così chiudiamo l'incidente. No, no, non voglio chiedere scusa se non a quelli che ritengono che fascista sia meno grave che essere comunista cinese, quindi è peggio essere comunisti cinesi, volevo dire autoritario, è una parola che io uso per la mia formazione, però vorrei anche dire che è una formazione sessantottina, che mi piace molto quello che mi chiede il nostro De Bortoli, perché il quadro che ho dietro è il quadro del male, della malattia e della morte. Vedi a terra, se lo vedete alle mie spalle, il corpo di Santa Lucia, che io ho messo in collegamento con il corpo straziato, e secondo Zigain, suo amico, paragonabile a quello di Cristo, di Pasolini quando fu travolto e ucciso, non si sa bene come in quali condizioni, è lo stesso corpo decomposto. Il fondo del dipinto è totalmente informale, sono le latomie, sono le cave di Siracusa e il pittore le dipinge senza mettere nessuna presenza, nessuna luce, con un effetto che richiama quello di Burri, quindi la mostra è Caravaggio contemporaneo tra Burri, in dialogo tra Burri, con Burri e con Pasolini. Quindi il quadro è cattivo perché vedi che i protagonisti sono due carnefici violenti, che sono protagonisti. Lei è una cosa, è per terra, è diventata terra, è diventata fanga, non ha nessuna luce e non c'è luce da nessuna parte. È il quadro del male, non c'è quadro al mondo più il quadro del male. Io, e devo dire anche De Bortoli, ci incantiamo quando Sgarbi fa Sgarbi, critico d'arte, perché è magnifico. Detto questo, però, appunto, ieri Sgarbi è stato parecchio più violento.